bentornati a the real eccoci qua in cucina con barbara allora oggi vi voglio proporre due peccati di gola due peccati di calorie ogni tanto si può usare ogni tanto non strappa la regola si può fare tu sei sempre dieta io come vedete no quindi oggi mi segui e ti lancio in questa in queste ricette un po sfiziose anche un po caloriche ma ogni tanto come ti posso aiutare brava così mi piace allora innanzitutto vi racconto cosa vi voglio preparare vorrei fare un tomino fritto in pastella di birra con cavolo nero ripassato alla melassa e buccia di limone allora per preparare la nostra ricetta occorre dei tomini da sciogliere cavolo nero uno spicchio d'aglio ma è facoltativo gambi di sedano già puliti e decorticati buccia di limone solamente la parte gialla ovvero la zest del limone per fare la pastella occorreranno mezza bottiglietta di birra farina eccola qui farina bianca zero amido di mais e un pochino di acqua gasata alla fine condiremo il nostro piatto con un po di melassa e dei pinoli tostati barbara iniziamo ti passo un tomino e tu me lo tagli con il coltello in sei spicchi nel frattempo mentre tu stai tagliando il tomino io inizio a preparare la pastella così vediamo come si compone farina circa 4 cucchiai un pizzichino di sale lo mettiamo subito nella pastella perché è l'involucro dei tomini e poi aggiungo 2 barra 3 cucchiai di amido di mais chef posso tagliarlo anche in otto sì certo va benissimo sì perché più sono piccolini i pezzi di tomino e poi è gradevole quando lo troviamo nel piatto adesso oggi ho aggiunto maizena farina un pizzico di sale stempero con un pochino sto faccio pronta la pastella e poi te li faccio fare stempero con un pochino di acqua gasata che serve leggermente per amalgamare ma tutto il resto della nostra pastella viene composta con la birra bianca usate la birra bianca e non la birra scura perché la birra scura anche se più aromatica è particolarmente amarognola e quindi poi la pastella risulta un po troppo aggressiva messaggiata la pastella fatta con la birra e allora la birra da un pochino di retrogusto amarognolo che io trovo molto divertente soprattutto abbinato a un formaggio dolce come il tomino e poi contiene anidride carbonica e quindi l'anidride carbonica cosa fa rende un pochino più spumosa più schiumosa la nostra pastella adesso aggiungo ancora quell'ultimo ciccinino di farina che mi ero tenuta per dare la giusta densità adesso tuffa nella pastella un voto sul taglio del vabbè otto più grazie più tutti precisi tutti piccolini al precisa come sei tu barbara potrei diventare anch'io uno chef adesso non c'è possibilità amica mia stai serena come se accende il gas e ti do una mano manco questo ma l'ho già fatto l'ho già acceso allora io visto che tu sei una bella fanciulla precisa si do due cucchiai guarda così tu puoi iniziare a friggere i tomini il tomino deve essere prima affogato i topini ci guardano il tonino e guarda te ne faccio vedere uno e poi tu mi segui immergi così delicatamente quando sarà pronto inizierà poi a fuoriescere a galleggiare si chef brava così mi piace così mi piace nel frattempo io inizio a preparare il sedano sedano gambi di sedano già lavati decorticati con un pela patate fate delle striscioline così in questo senso e create come degli spaghettini diciamo più delle tagliatelle di sedano ecco e così è sufficiente questa julienne di sedano fatta con il pela patate la disponete a base del piatto ed è la nostra parte cruda verrà poi ad accogliere il cavolo nero che adesso faccio rosolare in padella allora a padella fredda perché deve cuocere ma non troppo metto uno spicchio d'aglio accendo il fuoco a media temperatura un goccino di olio aggiungo brava guarda barbara come friggio a galleggiare brava devono galleggiare quando vedi che iniziano a scoppiettare è ancora un pochino allora la pastella con la birra e l'acqua non farà mai un colore brunito però devono essere bionde ecco bionde brava questo sconosciuto in questa padella ho appena acceso il fuoco e ho messo uno spicchio d'aglio a crudo della buccia di limone e un filo d'olio la porto alla massima temperatura e ci cuocerò il cavolo nero cavolo nero l'abbiamo già lavato tagliato a pezzettini se preferite lo sbollentate a me piace già mangiarlo così appena saltato in padella perché ha un sapore più piccante è un pochino più aromatico e questo lo lascio leggermente prendere calore perché bello ancora quando è croccantino è un modo un po innovativo di mangiare il cavolo nero e come parliamo di sfizi allora i tommini mi sembrano quasi pronti e a questo punto li scoliamo con la schiomarola e li metti qua solo un po di carta assorbente intanto li fai appassire il cavolo nero è quasi pronto quindi l'abbiamo proprio scaldato in padella con buccia di limone uno spicchio d'aglio e un cucchiaio di olio appena inizia così a sfrigolare è pronto adesso sono pronta per comporre il piatto mettiamo sopra il sedano crudo fatto a julienne a tagliatelle del cavolo nero della buccia di limone croccante e croccante hai detto proprio la parola chiave propriamente il cavolo nero si trova nelle zuppe nella ribollita un piatto che usano moltissimo in toscana invece noi in questo caso non lo usiamo lesso ma leggermente scottato adesso ancora il piatto non è finito mettiamo i triangolini di tomino questo è un piatto che ha proprio i colori dell'inverno siate abbondanti come no guarda sono belli croccantini sono belli gonfi mettiamo dei pinoli già tostati e poi irroriamo con un pochino ma veramente poco miele di castagno poco 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 che fa contrasto sul tomino e questo mettiamo ancora a fresco un po di buccia di limone e questo è il nostro primo peccato chef mi hai convinto